Chieti non può rimanere senza sale cinematografiche, stiamo facendo tutto il possibile per riaprire il Super Cinema entro ottobre. Lo ha detto al TG8 il sindaco Diego Ferrara, esprimendo rammarico per la notizia della chiusura delle 12 sale del cinema che si trova all'interno del centro commerciale Megalò. Dal prossimo primo maggio, giorno in cui si celebra la festa del lavoro, i 10 dipendenti del cinema Movieland resteranno a casa e gli ultimi film saranno proiettati fino al 30 aprile. Ai lavoratori arrivano le lettere di licenziamento per cessazione e attività. La decisione della società Mega Cinema SRL è dovuta allo stato di crisi dopo due anni di emergenza Covid. Chieti così perde il suo unico cinema ancora aperto, visto che del Super Cinema di Via Spavente è rimasto aperto soltanto il bar. L'auditorium e la sala proiezioni sono chiusi da diversi anni per problemi strutturali, ma grazie ai finanziamenti del PNRR saranno effettuati i lavori necessari per consentire la riapertura, ci conferma il primo cittadino. Per quanto riguarda Chieti è già da tempo che stiamo pensando ad una soluzione, soprattutto per la città alta, che da tanti anni priva di sali cinematografiche, a differenza di molte cittadine e anche paesi del circondario che se ne sono muniti. Devo dire che noi nell'ambito di un progetto di 20 milioni di euro avuti dal PNRR ci sono 700 mila euro di questi 20 milioni che sono direttamente indirizzati alla ristrutturazione del Super Cinema. Tempi di attuazione del progetto di ristrutturazione del Super Cinema, tali da poter far sì che questa sala sia di nuovo usufruibile come sala cinematografica, sono sei mesi. Grazie. Grazie.